Prima di cominciare lascia un like, iscriviti e attiva la campanella E ti ricordo che tramite il supporto a creatore puoi supportarmi con il codice creatore TNT Barney nello shop di Fortnite Che dire Mi sento elegante Mi sento elegante Grazie a tutti. 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 Se ti è piaciuto il video, seguimi sui social, iscriviti qua su YouTube o guarda un altro video.